Questa passione? E' nata così per Robby, diciamo che degli amici andavano sui trampoli e io ho detto vabbè perché non proviamo? E pensa un attimo, non ti preoccupare, mi abbassa, non ti preoccupare. Pensa che la prima volta che ho provato, ho provato su un soffitto dove non c'era nessun tipo di recinzione ed era tutto giù, si si andava, tipo di far male. E poi dopo abbiamo iniziato ad andare un po' sulla spiaggia e piano piano abbiamo imparato. Ma stai con un gruppo? No, sono qui da solo, mi ha chiamato un'agenzia e sono stato tutti e tre giorni a questa bellissima manifestazione. E come l'hai vissuta? Cosa? Come l'hai vissuta? E' stata una bellissima esperienza, c'è stata tantissima gente, ieri sera c'era molta più gente ma credo che ora si sta iniziando ad affollare. Dimmi.